ciao monella guarda qua è piccolina penso 4 mesi prendilo vieni qua vieni guarda com'è bella questa pallina com'è bella com'è bella guarda qua è bella proprio questa pallina è vero dove è andata la pallina dove è andata la pallina dove è andata la pallina allora prendiamola dai eccola questo è faciocchina tu piccolina tieni attenta quando lei sta qualcosa in bocca non far avvicinare lui finire che litigano guarda qua com'è bella questa pallina sei pronta non riesce a sapere guardala tieni vai come la vogliamo chiamare come ti dobbiamo chiamare monella e non lo so se l'avete già usata si si l'abbiamo se non mi sbaglio si sicuro al maschile gliele vogliamo togliere un po' questa collana che non so no è troppo bella eh no lo so poi la rimettiamo ciao ma questa è una monellina eccola eccola questa monellina saluta ciao dici chi mi adotta chi mi vuole a casa che voglio giocare voglio correre voglio fare amicizie voglio le coccole qui non me le fa nessuna una coccolona circa 4 mesi è abbastanza piccolina medio contenuta medio piccola medio piccola medio piccola che si porta piccoletta si pure le zampette sono piccole che stai facendo stai assaggiando il dito di zia claudia com'è il dito di zia claudia fai vedere come ti stanno bene questi fiorellini queste orecchie sono benissimo queste orecchie espressive come dicevamo noi le orecchie espressive chi è? 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 ah si so guarda quella codina guarda si adesso si 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 è prima si è stancata un po' giocando correndo e adesso la liberiamo una due e si togli 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 tre vai 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 corri corri non corri più mo' mo' che sei libera non corri più non corri più guarda qua 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 è stanca che c'è? si è stanca guarda quella faccia guarda qua guarda qua amore come ti chiamiamo? ci vuole un nome simpatico per lei che stai facendo? che stai facendo? sei un soggetto proprio un soggetto si femmina guarda qua guarda quella faccia guarda guarda quella faccia vede se riesce a fare qualche foto così mi fa ridere